Niente funerali per Ugo Russo. Avrebbero dovuto svolgersi questa mattina infatti i funerali del 15enne ucciso da un carabiniere fuori servizio a seguito di un tentativo di rapina avvenuto la notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo in via Orsini a Napoli. Ieri però dalla curia di Napoli è arrivato l'ordine di sospendere le cerimonie religiose, funerali compresi, per limitare il contagio da coronavirus. Amici e parenti del ragazzo quindi hanno dato luogo a una processione da Salita Paradiso, dove risiede alla famiglia Russo, fino a piazza Carità. Ma gli agenti delle forze dell'ordine, quando il corteo è arrivato in via Toledo, hanno impedito agli amici di trasportare la barra bianca in spalla e non sono mancati momenti di tensione. Tensione però rientrata quando si è deciso di rimettere la barra nel carro funebre e sciogliere il corteo. Con indosso le maglie, con la foto di Ugo Russo, amici e familiari sono ritornati indietro nel vicoletto dove il ragazzo viveva. Ora non resta che aspettare i risultati dell'autopsia per conoscere l'esatta dinamica della tragica vicenda che vede un 15enne morto e un carabiniere di 23 anni indagato per omicidio volontario.